La LAVA e i cittadini, uniti per salvaguardare l'area della Coleman, lo spazio compreso nel territorio comunale di Dazio e denominato da 50 anni come ZRC, zona di ripopolamento e cattura, corre il serio rischio di poter rimanere tale ancora per poco, considerato che la provincia sta tentando di riaprire proprio in questo sito la caccia di selezione. Proprio per questa ragione, stamane il gruppo animalista capitanato da Stefania Sbarra, insieme alle socie Katia Grande, Chiara Scadi e Katia Nippi, è sceso in campo al fine di poter consegnare a Palazzo Muzio una petizione allo scopo di modificare il piano venatorio. Per portare avanti appunto il discorso di quella fetta di popolazione che teme che all'interno della Coleman si possa ripetere il tentativo di apertura alla caccia. Quindi circa 1500 cittadini, così con molta tranquillità, noi non abbiamo fatto grandi fatiche a raccogliere, e questo è importante da sottolineare, il loro volere, chiedono alla provincia che all'interno della Coleman ci sia innanzitutto la costituzione di un'oasi naturale protetta, con l'istituzione di un osservatorio naturalistico con aree tematiche dedicate alla peculiarità del sito. Perché è una zona veramente molto bella, di strategica importanza, con una variegata tipologia di animali all'interno ed è giusto che venga valorizzato. L'obiettivo è anche quello di rivalutare la relazione un uomo-animale sulla base di sistemi più moderni, in sintonia con la normativa nazionale ed internazionale, che tende a promuovere un rapporto più equilibrato con la natura. Il fatto di istituire un osservatorio naturalistico, così come noi non stiamo chiedendo nulla di particolare, lo fanno già in tanti paesi, se noi andiamo qui vicino a Porlezza c'è la riserva, appunto dicevo prima, la riserva del lago, che è una riserva bellissima, dove si tiene di tutto, dai concerti alle visite guidate agli animali, agli ambienti circostanti e così, quindi potrebbe essere anche per la Colmen, studiando poi il territorio molto bene, studiando le metodologie atte alla istituzione di questo centro, di poter appunto fare una valorizzazione sociale, culturale e perché no anche economica. La petizione è una forma di riscatto soprattutto nei confronti di tutti quegli esemplari uccisi senza ragione, sottolinea Stefania Sbarra, primo su tutti l'Orso M25. La LAV continuerà per questo a lottare per la protezione della biodiversità. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica, anche se vediamo che l'opinione pubblica è già sulla buona strada, ma anche le istituzioni perché salvaguardino questo meraviglioso patrimonio faunistico che è caratteristica di questo nostro territorio.